Buonasera a tutti e benvenuti in questo 56esimo video di ultime notizie sul superbonus, il nostro format di video brevi col quale ti teniamo aggiornato su ogni novità in tema superbonus. Notizia di qualche giorno fa è che il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, durante un'audizione in commissione parlamentare per la semplificazione, ha illustrato come il governo intende semplificare l'installazione di pannelli solari sugli edifici. Argomento molto interessante per il grande impatto non solo sul mondo dei superbonus, ma anche su tutto il settore delle fonti rinnovabili. In questo breve video ti mostrerò quali saranno per te i grandi benefici se intendi installare sulla tua casa un impianto solare fotovoltaico col quale autoprodurti energia elettrica oppure un impianto solare termico col quale generare tutta l'acqua calda sanitaria di cui hai bisogno. Ma non perdiamo tempo, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, metti un bel like e partiamo! Ciao, sono l'ingegner Marcello Conto, in questo video voglio parlarti della bella notizia uscita qualche giorno fa su Italia Oggi. Non era proprio nelle prime pagine, infatti era pagina 28 su 31, ma l'abbiamo scovato ugualmente. Il titolo dell'articolo a firma di Francesco Cirisano è Pannelli solari liberi sugli edifici. E questa notizia è stata per me un vero sollievo. Sono anni che mi sgolo su questo tema perché vedo una grande incoerenza da parte dello Stato. Da un lato ci dicono che serve più fotovoltaico, più solare termico, più eolico. Si continua a parlare della necessità di far crescere l'uso di energia da fonti rinnovabili perché siano troppo dipendenti dal gas proveniente dall'estero. E l'attuale conflitto tra Russia e Ucraina ce l'ha ricordato in modo chiaro. Contemporaneamente siano sempre in scacco a causa delle stringenti norme paesaggistiche che rallentano, riducono o bloccano tanti interventi. In una nazione come la nostra che pullula di beni tutelati, di centri storici bellissimi, ogni due per tre c'è un ufficio tutela del paesaggio, un ufficio tecnico comunale o qualcun altro che si mette di traverso. Siamo di fronte a una vera e propria selva di regole e regolette. A livello nazionale, a livello regionale, comunale, sovracomunale. Regole tra le quali è veramente difficile districarsi. Praticamente ogni comune ha le sue regole, spesso sono le più fantasiose. Si passa da chi pretende che si utilizzi solo una falda del tetto, a chi prevede una copertura per non più del 50% di ogni falda e poi l'impianto non deve essere visibile dalla chiesa parrocchiale, ma non deve essere visibile neanche dal comune e nemmeno dal bosco perché gli scogliatoli ci rimangono male. Insomma, così è veramente difficile lavorare. Ma vediamo in cosa consiste la semplificazione annunciata dal ministro Brunetta durante questa audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione. La sostanza è che l'installazione di pannelli solari sugli edifici sarà liberalizzata. E questo varrà sia per il solare fotovoltaico, col quale puoi autoprodurti energia elettrica, ma anche per il solare termico, grazie al quale puoi sfruttare l'energia gratuita che ci dà il sole per generare tutta l'acqua calda sanitaria di cui hai bisogno. Ci sarà ancora la necessità di autorizzazioni, ma in forma semplificata e solo per gli edifici considerati beni culturali. In tanti casi si potranno installare impianti da fonti rinnovabili senza comunicare nulla a nessuno. È ad esempio il caso dei siti industriali dismessi e delle aree agricole abbandonate e non produttive da almeno cinque anni. Queste semplificazioni saranno attuate nei prossimi mesi, anche per raggiungere gli obiettivi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in modo da realizzare, una volta per tutte, quella svolta green da tempo annunciata ma sempre rimasta nella teoria. Certamente una grande accelerazione in questa direzione è arrivata dall'attuale conflitto tra Russia e Ucraina, che mette pesantemente in discussione le enormi fornituri di gas che ci arrivano dalla Russia, o direttamente o attraverso l'Ucraina. Lo strumento normativo scelto dal governo sarà un prossimo decreto energia, al quale lavoreranno insieme Ministero della Funzione Pubblica e naturalmente Ministero della Transizione Ecologica, il mite di cui tanto abbiamo parlato in questi giorni in relazione al decreto prezzi. Il primo passo sarà la liberalizzazione dei pannelli solari sugli edifici pubblici, e non parliamo di due o tre immobili, bensì di circa un milione di costruzioni. Per rendere ancora più efficace il PNRR, il Ministero della Funzione Pubblica ha in mente anche altri importanti progetti. Le novità andranno dal dimezzamento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, alla riduzione degli adempimenti inutili, e poi ci saranno importanti interventi a favore dei disabili, che saranno esonerati da visite e adempimenti. Un altro punto cardine sul quale si concentrerà l'opera di semplificazione sarà il settore dell'edilizia. Il governo dirà basta alla presentazione ripetuta degli stessi documenti. Questo risultato sarà raggiunto con la completa digitalizzazione sia dello sportello unico per le attività produttive, SUAP, che dello sportello unico dell'edilizia, il SUE. L'obiettivo ambizioso è di semplificare 200 procedure amministrative entro il 2024 e 600 entro il primo semestre del 2026. Le maggiori semplificazioni arriveranno per le autorizzazioni ambientali, per i permessi di costruire, per gli appalti pubblici e la legislazione sul lavoro. Ma il ministro Brunetta ha detto che non è più rimandabile nemmeno semplificare l'acquisto di tecnologie per ridurre quello che chiamano il digital divide. Ossia il divario digitale che oggi esiste tra chi ha accesso alle tecnologie dell'informazione, quindi accesso a computer e internet, e chi ne è ancora escluso. Ricordiamo che in tanti nostri paesi la fibra ottica è assolutamente un miraggio e si deve navigare su internet con modem che sembrano dei vecchi macinini. Prima di chiudere ci tengo a fare una riflessione con te su cosa è il bello e che cosa invece è strategico per il nostro futuro. So già che in tanti non condivideranno le mie parole, ma credo che sia bello anche confrontarci se la pensiamo diversamente. Quindi non esitare a dirmi cosa ne pensi in un commento qui sotto. Penso che dobbiamo fermarci a pensare per decidere cos'è il bello. Probabilmente in tanti vogliono continuare a vivere in un mondo che non esiste più. Dobbiamo decidere se è più bello, che i tetti dei nostri centri storici siano coperti da vecchiettegole oppure da pannelli di vetro, fotovoltaici o solari termici. Ma decidiamo anche se siamo disposti a lasciare in funzione milioni di caldaie a gasolio o gas pur di non avere questi pannelli di vetro sui nostri tetti. E se siamo disposti a continuare a vedere le fumate scure nel nostro cielo. Dal mio punto di vista, un impianto fotovoltaico non riduce la bellezza di un centro storico, anche perché spesso si tratta di impianti che puoi vedere con l'elicottero. Se dipendesse da me, preferirei modificare l'estetica di un vecchio tetto installando un impianto fotovoltaico se, contemporaneamente, rottamiamo una vecchia inquinante caldaia. Migliorare la qualità dell'aria significa migliorare la nostra qualità di vita rispettando l'ambiente. E mi spiace, per chi la pensa diversamente, ma questi obiettivi non sono raggiungibili con vecchiettegole e altrettanto vecchie caldaie. Bene, anche per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici e fammi sapere che cosa ne pensi scrivendomelo in un commento qui sotto. Oggi abbiamo parlato di fonti rinnovabili, ma abbiamo parlato anche del futuro che vogliamo creare. Per questo ci tengo molto ad avere un tuo parere e non metterti problemi a contraddirmi se la pensi diversamente da me. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per essere aggiornato quando pubblico un nuovo video e seguimi anche su pagina e gruppo Facebook Ingegnere Marcello Conto. Bene, un caro abbraccio e a presto.